In equilibrio sulle macerie dei palazzi distrutti in Ucraina spunta la ginnasta di Banksy. Lo street artist di Bristol ha pubblicato su Instagram tre immagini dello stencil apparso sulle rovine di un palazzo bombardato e la didascalia a Borodianca, Ucraina, di fatto firmandolo. Questa donna è raffigurata qui, su questo muro. Secondo me è il simbolo che siamo indistruttibili e che il nostro paese è indistruttibile, dice quest'uomo che ha viaggiato per vedere l'opera da vicino. Nonostante sia distrutto ricostruiremo tutto. La cosa principale è essere liberi. Siamo liberi e possiamo rendere il nostro paese ancora migliore qualunque cosa accada. La ginnasta non è l'unica opera nello stile di Banksy apparsa ai kif e dintorni, spingendo gli ucraini a pensare che l'artista, in passato intervenuto anche in altre zone di guerra, potrebbe lavorare nel paese. Tra queste un bambino judoka che mette al tappeto un adulto e un'altra ginnasta con il nastro. Grazie!